Luca il tuo soprannome è stato Il Graffio, due gol da opportunista, due grandi gol, raccontaci un po' questo tuo magic moment di oggi. È stata un'emozione unica, ho fatto la prima mia doppietta in carriera e anche il primo gol ai professionisti, sono stati due gol da opportunista, dopo una bella parata del portiere su colpo di testera nell'Ucci ho toccato la porta e per fortuna la palla è rimasta lì e ho segnato. Il secondo dopo una gran giocata di Pinardi con un colpo di tacco mi ha liberato in area, ho calciato e per fortuna è entrata. Una dedica? A mio padre e alla squadra ovviamente perché mi ha sostenuto tutto l'anno anche nei momenti di difficoltà. È una doppietta con cui fai presente che ci sei anche tu e che potresti essere anche l'anno prossimo? Beh lo spero, io sono ancora della Feralpi e spero oggi di avergli dimostrato che posso valere qualcosa, ho lotto tutto l'anno per questo momento ed è arrivato. Spero che loro siano felici, poi le scelte saranno altre e avranno i loro buoni motivi. Io spero, qui sono stato benissimo, noi anche nel paese con la squadra, con tutti quindi spero di confermarmi qui anche l'anno prossimo. Tanti giovani in tribuna e tu hai dimostrato anche a loro che allenandosi e lavorando sempre seppur giocando molto poco si può poi se c'è l'occasione dimostrare che questo dà veramente tanti frutti. Sì, tutti mi dicevano lavoro paga, lavoro paga, la ruota gira però ovviamente se le cose non ti vanno benissimo sotto l'aspetto delle partite che fai magari non ci credi molto però alla fine l'ho provato sulla mia pelle oggi e è così quindi se uno lavora probabilmente i frutti li raccoglie. Grazie a tutti.